Mi chiamo Borrelli Gennaro e da circa 20 anni faccio tassista a Modena e da due anni e mezzo ho un'auto elettrica e l'auto con cui svolgo il mio lavoro è una Tesla Model S 85D e finora ho percorso circa 300.000 km e mi trovo veramente bene perché la mobilità elettrica ha cambiato veramente il mio modo di lavorare e di sicuro non tornerò indietro.